Ciao ragazzi, oggi vi voglio far vedere gli ultimi prezzi della marca Mina che ho comprato Allora, vi ricordo che questa marca, l'unico negozio a Milano è quello di Corso Buenos Aires Corso Buenos Aires 16, vi faccio vedere l'indirizzo, vedete? Corso Buenos Aires 16 Allora, vi faccio vedere alcuni che sono, diciamo, alcuni pezzi nuovi e qualcosa che, diciamo, non avevo preso in considerazione prima Intanto vi faccio vedere questo illuminante Il numero è il 201, queste sono le scatole Allora, sono 6 grammi di prodotto e la schadenza dell'apertura è 18 mesi Questa è la sua scatoletta Come vedete, l'indirizzo della ditta è di Madrid Questo è l'illuminante, molto carino Il colore sulla scatola, il trafiletto sulla scatola, colorato, equivale al colore dell'ombretto dell'illuminante E questo è il colore Ve lo faccio rivedere meglio Ecco qua, questo qua è il colore E questo cosa dice? 95 Ve liner pencil Cioè la matita occhi Questa è la 603, come vedete quella gialla Sono, sono, sono 12 mesi di scadenza dall'apertura La grammatura non la vedo Gli ingredienti sono questi Gli ingredienti, come vedete, sono molto pochi Questa è la matita Purtroppo la matita non la vedo Ma vedete, è abbassato un po' di caldo per squagliarsi Quindi questa cosa che si squaglia così facilmente non mi piace Quindi non riesco neanche a farvi vedere per bene il colore Mi sono dimenticata di farvi vedere gli ingredienti dell'illuminante Che sono questi qua La matita costa 4,95 Poi ho preso 3 ombretti in crema E la linea The cream e il shadow Questi qua costano 8,95 ciascuno Io ho preso questo viola, lilla Che è il 308 Questi sono gli ingredienti Sono 12 mesi dall'apertura Non vedo la grammatura del prodotto Non la vedo Vediamo un po' se c'è scritto qua No Non c'è scritto neanche qua La grammatura del prodotto E va bene Questo è quello viola Anzi è precisamente un lilla Guardate che bello Molto bello Molto bello Mi piace, mi piace Poi ho preso questo verde Che è il 302 Questo qua Che bellissimo verde Bellissimo verde Tutte e due si ma mi piacciono tanto Veramente tanto E questo giallo Che è il numero 301 Ecco qua Molto carino Realmente molto carino Ho preso questo Che è il numero 213 Sono 24 mesi dall'apertura Di scadenza E sono 13 ml Di prodotto Allora Gli ombretti in crema Costavano 8,95 Questo invece 5,95 Poi ovviamente Questo non funziona Non funziona da solo Ma vuole anche il suo top coat Questo è il colore Questo è il colore Dietro avete anche Il numero Smalt effetto gel E 13 ml E la scadenza E questo è il colore Un colore veramente molto carino E questo è tutto quello Che ho preso da Mina Spero che diciamo Che i prodotti Spero che i prodotti Vi piacciono A me Alcuni prodotti Mi sono piaciuti Veramente tanto Quindi Credo che Continuerò Ad andare a vedere Un po' Che cosa esce Di nuovo Vi saluto Un bacino a tutti Ciao